guardiamo ora che pesca allora 26 aprile 2008 andiamo qua guardami il sorriso alla troupe televisiva adesso guardiamo fai vedere tutti i pesci che hai preso raul fai vedere i pesci che fai vedere la mamma poi guarda ma li hai preso un sacco quanti sono contali se ce la fai perché sono tanti 1 2 3 4 5 6 peggio oreggio ferro 12 13 13 allora bisogna prendere un altro vai fammi vedere come gli peschi sono proprio curioso attenzione cane da pesca da professionista guardare lo sguardo di mio figlio concentrarsi bisognerebbe anche prenderlo ogni tanto abbiamo preso appena una carpa gigante però fammi vedere come li prendi aia macchina macchata e via che lancio si vede che sei un professionista ma come metti a posto la roba adesso tra un po' andrà in acqua lasciali stai facendo un grande grande ecco metti di metti solamente a sedere sul tappettino già su cosa fai non ce la fa ecco fa le sue trappole ecco ha agganciato al retino grande ecco ha agganciato al retino grande Grazie a tutti.